ciao a tutti oggi vi presento una canzone di franco califano che ha scritto nel 1981 la mia libertà la mia libertà avrà questa serie di accordi qui do maggiore dito 3 della mano sinistra terzo tasto quinta corda do dito 2 secondo tasto quarta corda mi terza corda che è un sol libero e il dito 1 della mano sinistra al primo tasto della seconda corda che è un do do maggiore poi incontriamo un sol maggiore il sol maggiore il dito 4 terzo tasto prima corda che un solo il dito 2 terzo tasto della seconda della della sesta corda che è un sol dito 1 secondo tasto quinta corda che è un sì la quarta corda la terza corda e la seconda corda sono corde libere sol maggiore e poi l'unico accordo in barrè è il fa maggiore dito 1 della mano sinistra fa un barrè al primo tasto il dito 2 al secondo tasto della terza corda che è un la il dito 3 terzo tasto quinta corda che è un do dito 4 terzo tasto quarta corda che è un fa questo è un fa maggiore avremo anche un re minore dito 1 primo tasto prima corda che è un fa dito 2 secondo tasto terza corda che è un la dito 3 terzo tasto seconda corda che è un re e la quarta corda libera dalla quarta corda al mi cantino re minore incontriamo anche un sol 7 il sol 7 il dito 1 al primo tasto della prima corda che è un fa il dito 2 al secondo tasto della quinta corda che è un si il dito 3 terzo tasto sesta corda che è un sol la quarta corda la terza e la seconda corda sono corde libere sol 7 poi avremo anche un la minore il la minore dito 1 primo tasto seconda corda che è un do dito 2 secondo tasto quarta corda che è un mi dito 3 secondo tasto terza corda che è un la la quinta corda è libera e dalla quinta corda al mi cantino la minore e poi incontriamo un mi 7 il mi 7 portiamo il dito 1 al primo tasto della terza corda che è un sol diesis il dito 2 al secondo tasto della quinta corda che è un si e questo è già un mi 7 se vogliamo aggiungere il quarto dito al terzo tasto della seconda corda sul re questo è un mi 7 più completo ok gli accordi sono tutti qui do maggiore il sol il fa un re minore un la minore un mi 7 ha anche un sol 7 comunque dopo quando metto sulla canzone vi dirò esattamente in ordine gli accordi che stanno arrivando adesso vi voglio spiegare la pennata ma prima un arpeggino nella canzone c'è un arpeggio io provo a fare un arpeggio tutto mio personale mi posiziono in do maggiore poi l'arpeggio è questo sono sette movimenti che io considero una battuta parto col pollice della mano destra sulla quinta corda con l'indice la terza corda col medio la seconda corda e con con l'anulare il micantino questo micantino come avete sentito lo suono più forte e lo tengo più lungo come durata poi risuono con l'indice la terza corda col medio la seconda corda e con l'indice la terza corda questi sette movimenti io considero che sia una battuta ho fatto due battute il sol è sufficiente mettere il quarto dito al terzo tasto del micantino che è un sol e il terzo dito al terzo tasto della sesta corda che è un sol la terza corda e la seconda corda sono corde libere la figurazione della mano destra è esattamente uguale cambia solo che il pollice suonerà la sesta corda poi la terza corda la seconda corda la prima corda che è più lunga poi terza corda seconda corda e terza corda ok vi faccio sentire l'arpeggio sul sol maggiore seconda battuta terza battuta di sol e quarta battuta poi dovrebbe tornare in do comunque dopo vi dico gli accordi in ordine bisogna che ascolti la canzone e poi è l'arpeggio in fa maggiore il fa maggiore esattamente uguale ci posizioniamo in fa maggiore anche qui il pollice suonerà la sesta corda oppure anche la quarta corda come volete voi se io faccio dalla sesta corda terza corda seconda corda mi cantino poi terza corda seconda corda e terza corda l'arpeggio di fa maggiore credo ci sia solo una battuta di fa maggiore poi torna in do non mi ricordo se sono due battute di do ma ripeto ve lo dirò dopo e poi credo che finisca anzi sono sicuro che finisse con una a una pennata di sol maggiore a questo punto qui vi spiego la pennata la pennata che io farei in questa canzone qui andiamo in do maggiore ci posizioniamo in do maggiore ripeto sempre che io suono una chitarra classica se voi avete una chitarra acustica col plettro io faccio una un basso quindi una pennata sui bassi poi una pennata in giù una pennata in su il basso iniziale lo tengo più lungo è la pennata in giù più corta quando torno su io torno su con l'indice anche anche questa pennata qui più lunga quindi la prima lunga giù la seconda più lunga poi tre pennate più veloci su giù su quindi la battuta di do poi vado in sol esattamente uguale la pennata sui bassi sol poi una pennata in giù una pennata in su più lunga e tre pennate su giù su ripeto basso pennata in giù pennata in su un po' più lunga poi pennata in su pennata in giù e pennata in su io questa la considero una battuta adesso esco dal video metto sulla canzone e vi dirò esattamente in ordine gli accordi che stanno arrivando il primo accordo comunque è do maggiore do maggiore sol maggiore do maggiore quattro battute sol maggiore sol maggiore fa maggiore do maggiore solo una pennata do maggiore quattro battute sol maggiore fa maggiore che ho nelle vere sol maggiore sol maggiore do maggiore quattro battute sol maggiore quattro battute do maggiore quattro battute sol due battute re minore mi sette la minore una pennata fa una pennata do una pennata sol sette una pennata do maggiore due battute sol quattro battute se sono triste suono piano se sono in forma canto forte così affronto la mia sorte do quattro battute sol maggiore fa maggiore do maggiore sol una pennata do maggiore quattro battute sol maggiore quattro battute sol maggiore quattro battute sol due battute re minore re minore mi sette la minore fa maggiore do maggiore sol sette due battute do maggiore due battute sol maggiore quattro battute sol maggiore quattro battute sol maggiore quattro battute sol maggiore quattro battute Grazie a tutti.